Gli sprint cash hanno cambiato nome, sono diventati sprint tricolore, però il proprietario della maglia non è cambiato. Mattia Pozzo come va? E' bene, dai, siamo partiti col piede giusto, era quello che ci eravamo prefissati in partenza, quindi non posso che dire che è meglio di così. Adesso sarà dura tenerla fino alla fine, oggi sarà difficile più che altro oggi perché gli sprint cash sono proprio, dopo il GPM, molto lunghi e duri. Sicuramente oggi sarà un po' più di stallo, vediamo i prossimi giorni. Grazie.